55 stand a tema, fiori, pianti e prodotti della terra e tanti oggetti curiosi. Per il terzo anno consecutivo la bella stagione a Grotta Mare si apre con il Mare in Fiore, la mostra a mercato organizzata dalla My Love Eventi, che anche domani, domenica 22 maggio, sarà nella zona del lungomare che attraversa il centro cittadino. Tanti prodotti e numerosi espositori che arrivano da ogni parte d'Italia, persino da Napoli. Abbiamo dei profumatori per ambiente creati con essenze naturali, realizziamo più di 20 fragranze, quindi sono tutte fragranze anche di nicchia, non solo, poi abbiamo creato anche il servizio ricarica che è importante per la riproduzione del prodotto che viene consumato a distanza di tempo. Poi abbiamo realizzato un altro prodotto innovativo che sarebbe l'aroma diffusore, che praticamente sul mercato si trovano pochissime essenze, ma solitamente sono delle essenze che arrivano di importazione. Invece noi le abbiamo create con le stesse fragranze di profumatori per ambiente, le abbiamo creati che vanno tranquillamente nell'aromaterapia, diciamo nel diffusore proprio per ambiente. Quindi in tutte le fragranze e nei formati da 510 ml, che è importantissimo. Sono sempre con essenze naturali, usiamo molto i profumatori, diciamo con queste essenze naturali, per esempio noi usiamo un tipo di limone che è un tipico del nostro territorio, che è il limone di Sorrento. L'arancia di Capri, il caffè di Napoli, quindi queste sono le fragranze che noi adoperiamo per questo tipo di prodotto. Dai profumi si passa ai bonsai, le piante grasse, ma anche vari tipi di fiori che arrivano dalla Puglia e diversi prodotti, come queste piante officinali, che arrivano dal Parco Europeo del Trasimeno. Noi coltiviamo tutte le officinali, piccoli frutti, siamo del Parco Europeo del Trasimeno. Presidio slow dello zafferano, questi sono infusi da fare anche in acqua fredda con la frutta da mangiare. Lo zafferano, da quest'anno tutte le ricette sono firmate a Giorgione, chef che ha un programma su Sky. Noi facciamo parte di Campania Amica, quindi brand coltiretti, tutto ciò che trovate qui è coltivato e prodotto da noi. Il tutto per una manifestazione che arriva a Grottamare per la terza volta, grazie all'organizzazione della Mile of Eventi, che edizione dopo edizione riceve un numero sempre maggiore di adesioni, prestando sempre una grande attenzione a tenere fede al tema portante della manifestazione. Anche quest'anno siamo ospiti a Grottamare sul lungomare, per il quarto weekend di maggio, perché ormai sarà un appuntamento annuale, sempre il quarto weekend del mese di maggio. Abbiamo 55 stand con tema floreale, tutti gli elementi presenti sono naturali, con fiori, con tutto quello che è il prodotto che deriva dalla terra, prodotti alimentari come le spezie, il miele, lo zafferano, il pistacchio, la frutta disidratata, l'artigianato a tema come le piante grasse fatte all'uncinetto, piuttosto che espositori che hanno essenze naturali, che arrivano persino dalla campagna, e gli espositori di fiori e piante, sia succulente che grasse che fiorite, che arrivano un po' da tutta Italia, anche dall'Italia meridionale. Vi aspettiamo anche domani, sempre dalle 9 alle 21 circa. E oggi, per il primo giorno, tra gli stand c'era anche l'assessore al commercio, Lorenzo Rossi, soddisfatto per la manifestazione. Con il mare in fiore, questo fine settimana apriamo la stagione dei mercatini estivi, sono pochi ma tutti di qualità. Siamo contenti di collaborare con My Love Eventi, che ormai da qualche anno porta a Grotta a Mare un'iniziativa che colora in modo diverso il lungomare, con un mercatino che ha sicuramente tanti banchi diversi, apprezzabili per il carattere artigiano, per le merci che vendono, ma in particolare a questo tema dei fiori e delle piante che è apprezzatissimo in questa tarda, anzi caldissima primavera. Grazie a tutti.